Un boato incredibile e la parete di Velta lo dimostra. Ancora un assalto ad un postamat, questa volta però la banda, entrata in azione in piena notte, ha colpito in una zona residenziale poco lontano dal centro di Padova. Lo sportello postamat ha ceduto sotto l'effetto della potente carica esplosiva. È successo intorno alle 4 di notte. Le volanti della polizia sono intervenute all'ufficio postale di Piazzale Cuoco, nel quartiere Guizza. Sul posto anche i vigili del fuoco per la verifica statica dell'edificio, che ha subito danni ingenti sia all'interno che all'esterno. L'esplosione non ha fortunatamente causato problemi alle strutture portanti. Le operazioni di soccorso e di verifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora, mentre le indagini della polizia sono ancora in corso per dare un volto ai malviventi fuggiti dopo il botto.